La città in cui nessuno va a dormire. Ha esordito in questo modo Ila Oren durante il suo incontro a Medioera parlando di Tel Aviv. Secondo ospite internazionale della quinta edizione del Festival di Cultura Digitale, l'amministratore delegato di Tel Aviv Global City, società in prima linea per l'attuazione dei progetti per il restyling e lo sviluppo internazionale della città israeliana, ha letteralmente conquistato il pubblico di Palazzo dei Priori. Altri appuntamenti hanno preceduto l'incontro dedicato all'esperienza di Tel Aviv. Ad aprire il pomeriggio di Medioera è stato Alessio Maria Braccini, docente di Management Information Systems, con un incontro dal titolo ICT e organizzazioni le generazioni digitali al lavoro. Subito dopo Cristiana Farina, Ivan Silvestrini, Marilena Pellegrini, Barbara Petronio ed Alexis Sweet, esperti di linguaggi cinematografici e televisivi, hanno proposto al pubblico il talk sotto gli occhi di tutti la reinvenzione della realtà nella narrazione visiva. Alle 18 è stata la volta di Adele Savarese, consulente marketing freelance per numerosi brand ed editor di Ninja Marketing che ha spiegato le dinamiche di condivisione che determinano il successo di un prodotto visivo sulla rete. Nel panel che è seguito, coordinato da Francesco Cutro, giornalista del TGR Rai e organizzato in collaborazione con l'associazione Giornalisti Scuola di Perugia, Gianpaolo Rossi, Gianpietro Mazzoleni, Massimiliano Panarari e Sergio Ragone, giornalisti addetti alla comunicazione, hanno evidenziato come siano cambiati in questi anni i comizi elettorali, partendo dalle tradizionali tecniche fino ad arrivare all'odierno utilizzo dei social network. Alle 21 si è passati al talk 4x4, la forza motrice dell'innovazione, condotto dagli architetti Saverio Massaro e Dario Pompei del gruppo Nitro. Sul palco il giornalista Carlo Infante, l'architetto Antonino Saggio, Annibale Delia, sociologo ed esperto di politiche giovanili. Con loro anche Mauro Rotelli, social media manager, co-ideatore e organizzatore di Medioera, che ha definito lo stesso festival termometro dell'evoluzione tecnologica di questi anni. Tutti gli appuntamenti sono stati come sempre trasmessi in diretta streaming sul sito www.medioera.it dove è possibile consultare anche il programma del festival.